Il treno regionale 18913 di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Faenza, delle ore 18.54 è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni eccetto Popolano Strada Canale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!